Buongiorno a tutti, vi prego di sedervi e di prendere posto perché così possiamo procedere alla firma del protocollo. È una giornata molto importante, come dicevo poc'anzi, è una giornata molto importante per il capoluogo dorico, ma non solo per il capoluogo dorico, per tante infrastrutture, un'opera questa che tocca sicuramente ferrovie, che tocca sicuramente il porto e che praticamente dà però delle risposte e che si uniscono alle grandi opere fatte e cantierate in questo ultimo periodo. Sono sicuramente il raddoppio a Stadale 16 e l'ultimo miglio, però non entro nello specifico perché poi saranno tanti gli interventi e i saluti, quindi ringraziandovi tutti per la presenza, io passo subito la parola al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Grazie Presidente. Sicuramente questa è un'infrastruttura che guarda lontano, ma soprattutto guarda la regione Marche, però da sindaco del capoluogo di regione non posso che... sottolineare quanto sia stato fondamentale il tuo intervento, la tua iniziativa, quanto sia stato importante l'impegno della regione a voler riaccendere la prospettiva di sviluppo di questo territorio e soprattutto dare una prospettiva al capoluogo di regione che ha il gravoso compito di dare dei segnali forti alla regione e di servire la regione. Da questo punto di vista, quindi questa infrastruttura tanto attesa, tanto acclamata, tanto attesa in passato, oggi segna con questo protocollo sicuramente un punto chiaro, un punto certo, un punto assolutamente fermo di quella che è non solo una volontà politica, ma di quella che è una prospettiva concreta, che ovviamente non si può che collegare alle altre infrastrutture importanti che sono già in parte cantierizzate, che sono arrivate ad un punto anche estremamente importante, io faccio riferimento al raddoppio della statale, così come all'ultimo miglio. Insomma, sappiamo benissimo quanta attesa ci fosse da parte del comune capoluogo, quando ci fossero i segnali, i contenuti che sono adesso collegati, perché lo sviluppo del porto non può prescindere da queste infrastrutture e devo dire anche quanto importante sia dal punto di vista della sostenibilità e della vivibilità del quartiere che ha pagato un caro prezzo che è il quartiere di Torrette, insomma, e ha pagato sotto vari profili. Quindi questo per noi rappresenta una fase, un passaggio vitale. Ecco, quindi io devo ringraziare ancora molto il Presidente Acquaroli perché ha avuto non solo il ruolo di regista, ha dato un forte impulso, ha messo intorno al tavolo tutti i soggetti, mettendo ognuno di fronte le proprie responsabilità e devo dire che tutti hanno risposto con grande prontezza e nel giro di poco tempo siamo arrivati alla stesura di questo protocollo che io posso annunciare per quello che mi compete alla città di Ancona, ai cittadini di Ancona, agli operatori di Ancona e questo, insomma, è un gran bel giorno per Ancona che ovviamente si presta e si presterà sempre di più al servizio e a vantaggio della Regione. Grazie Sindaco, subito la parola all'assessore Baldelli, così iniziamo ad entrare nel merito. Grazie Presidente, il mio ringraziamento va a tutti coloro i quali sottoscriveranno questo protocollo per la grande sinergia che si è formata dal Presidente Francesco Acquaroli e società come Ferrovie, ovviamente la stretta sinergia, lo stretto collegamento e sintonia con il Comune di Ancona ha permesso di sbloccare quella che è un'opera che non ha una valenza solo per quella che noi riteniamo la grande Ancona, il nostro capoluogo di Regione, ma ha una valenza regionale perché il protocollo incide su tre grandi infrastrutture il porto, perché inciderà sui dragaggi del porto sulla ferrovia, per velocizzare la ferrovia e rendere possibile un accesso dignitoso e al pari di grandi altri capoluoghi italiani anche nelle Marche e terzo e ultimo elemento fondamentale è anche il completamento dell'ultimo miglio per l'accesso da Nord al capoluogo di Regione Secondo, quello sviluppo che noi vogliamo su Ancona e sulla Regione Marche del Piano Infrastrutture Marche 2032 per la realizzazione di questo grande corridoio trans-mediterraneo che attraversa la nostra Regione e crea sviluppo per la nostra Regione e collega i Balcani con il porto di Ancona un porto fondamentale non solo per la nostra Regione ma per il Medio Alto Adriatico e la Penisola Iberica col corridoio atlantico quindi il mio ringraziamento va all'ingegner Striciuglio al sindaco di Ancona al presidente dell'autorità portuale dove io ho visto e posso sottolineare un vero cambio di passo rispetto al passato è stato subito pronto a mettere a terra le risorse che aveva a disposizione per la realizzazione e la sottoscrizione la realizzazione dell'opera e la sottoscrizione di questo protocollo il provveditorato che sarà uno strumento fondamentale anche per la realizzazione di questa opera ma sottolineo ancora una volta la determinazione del presidente Acquaroli come assessore al porto che ha compreso che il porto è e può diventare sempre di più la più grande industria di sviluppo del nostro territorio perché quella è la nostra porta di accesso insieme all'aeroporto di interessi economici stranieri sul nostro territorio grazie presidente grazie a te assessore verrà il lavoro anche di coordinamento fatto nelle scorse settimane che insomma è stato fondamentale e utile ad arrivare alla mattina di oggi ora proseguiamo con gli interventi di salute l'ingegner Savia per il provveditorato interregionale dei lavori pubblici sì buongiorno a tutti buongiorno buongiorno presidente la ringrazio per il gentile invito e ringrazio voglio ringraziare anche tutti gli altri soggetti sottoscrittori dell'accordo che rappresenta vorrei dire una conferma una conferma dell'interesse delle amministrazioni coinvolte e del sistema paese vorrei dire alla realizzazione di questo complesso di opere molto importanti per il territorio per la città di Ancona e torno a dire per il paese nel suo complesso perché la dotazione di una rete infrastrutturale adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio e della nazione non può che essere interesse precipio delle amministrazioni che insistono sul territorio ma anche dell'amministrazione centrale che io rappresento in quanto appunto rappresentante del proprietorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche, Umbria ho una competenza che va dall'uno all'altro mare abbiamo sviluppato anche evidentemente delle competenze importanti in materia di sesso ideologico e in particolare di difesa della costa in particolare qui sul territorio di Ancona io volevo ringraziare tutti per appunto lo spirito che anima la conclusione di questa rimodulazione però come dicevo prima è una conferma di una volontà che è ben presente a tutti e così precisare che l'accordo non prevede la nostra presenza in qualità di soggetti attuatori in prima battuta ma la vocazione del nostro ufficio è proprio quella di dare supporto a tutte le amministrazioni dal punto di vista tecnico proprio per il know-how le competenze che abbiamo e quindi non può che essere questa la nostra funzione anche all'interno all'interno di questa nell'ambito di questa importante opera che si andrà a realizzare che un po' travalica diciamo la lettera della norma che prevede solo una verifica coordinamento noi forniamo supporto anche in via informale vorrei dire anche attraverso canali che sono istituzionali e sono anche non formali e quindi confermo tutta la soddisfazione della mia amministrazione per la conclusione di questo accordo importante e vi ringrazio tutti grazie a lei ingegnere ora arriviamo con l'ingegnere Garopolo presidente dell'autorità portuale della nostra regione io voglio ringraziarlo perché sono tante le sfide che sta gestendo e anche il ruolo del porto è fondamentale non solo per la città di Ancona di Pesaro e di San Benedetto nella nostra regione ma l'autorità portuale ha una rilevanza particolare perché intorno al porto di Ancona noi sviluppiamo molte attività di natura economica e soprattutto anche attività di filiera che tocca molte eccellenze produttive e manifatturiere e che sono fondamentali per la competitività di tutto il sistema della nostra regione quindi io voglio voglio cogliere questa occasione per ringraziarlo sull'ampliamento dei moli la sistemazione delle aree la necessità di recuperare spazi per il turismo per le attività produttive è un'opportunità anche di ringraziarlo perché insieme a lui stiamo progettando lo sviluppo verso la penisola che sarà un'opera per la nostra città capoluogo epocale quindi veramente grazie perché in tutto questo hai trovato anche il tempo di dedicarti a un'altra opera come questa del lungomare che è fondamentale grazie sono anche un po' confuso delle parole eccellenti vedete i miei confronti dico semplicemente questo Ancona è un porto che merita molto impegno merita attenzione ed è un porto che è anche città quindi essere accanto al sindaco mi fa anche particolarmente piacere perché il lavoro che noi portiamo avanti non può prescindere da uno sviluppo anche condiviso e come è stato detto prima sostenibile per il porto e per la città oggi siamo a risottoscrivere un aggiornamento di questo accordo di programma che è strategico è strategico perché come hanno detto tutti coloro i quali mi hanno preceduto e ringrazio anche la storia Baldelli per avere dato un'ulteriore spinta anche energica nell'ultimo periodo e quindi ha eseguito in maniera eccellente le indicazioni del Presidente Acquaroli che proprio nella visione di uno sviluppo del porto che noi immaginiamo molto ambiziosa e lo ribadisco la riteniamo molto ambiziosa ma senza un'opera del genere rischieremmo di generare un ulteriore problema alla città di Ancona quindi quest'opera è molto importante per il porto ma allora ancora è più per la città che potrà vedere uno sviluppo economico in crescita sui traffici e sull'intermodalità che è una spinta verso la quale bisogna andare avanti ma lo può fare in maniera sostenibile cioè il traffico del porto dovrà totalmente bypassare la città e quest'opera è strategica intanto perché dà un nuovo assetto ferroviario un collegamento sempre migliore ferroviario dà nuovo spazio alla strada e poi dà anche al comune di Ancone quindi agli anconetani delle aree interessanti per poter godere meglio del rapporto col mare noi in tutto questo siamo fieri anche di poter dare il contributo che è legato anche al tema del dragaggio perché il dragaggio che noi avvieremo entro l'anno e che ci consentirà prima di completare la nostra vasca di colmata ma ci consentirà di generare ulteriori volumi per poter andare avanti dico anche questo noi in questi giorni siamo presenti il presidente lo sa perché ci ha anche dato come dire un supporto alla fiera di Miami per le crociere che vedono Ancona in crescita in crescita sempre partendo numeri piccoli ma cresciamo ogni anno e cresciamo tanto perché le marche hanno un'attrazione e questo penso che va sottolineato un'attrazione che va ben oltre i risultati fino ad oggi raggiunti crederci cosa che la regione ha fatto il presidente Tacquaroli ha fatto al primo momento nello sviluppo di vari settori ha citato gli aspetti anche manifatturieri all'interno del porto sono tutte questioni collegate perché vedete il mare è un elemento comune a tutto quello che c'è attorno al porto considerate che oggi per esempio ieri anzi sono state annunciate nuove commesse importanti per fincantieri alcune di queste verranno ad Ancona quindi l'amministratore delegato Forgero ha firmato degli ordini importanti a Miami ma Miami è una sede dove portiamo a casa qualcosa anche per Ancona e quindi il porto la città insieme al regione e alle opere strategiche quindi ferrovie provvedorato opere pubbliche che come ha detto il dottore Salvia ci accompagna in tutte le fasi in cui abbiamo bisogno di supporto e manca oggi l'ANAS perché non è non sottoscrive l'accordo però l'ANAS ha fatto e fa una parte importante direi che l'ingegnese città gli tocca anche di rappresentarla come figlio della stessa mamma che è il gruppo ferrovie e oggi si dà anche una testimonianza di una collaborazione tra varie uffici tecnici e varie istituzioni che secondo me è un segnale anche questo di importante a sottolineare quindi grazie a tutti voi anche per il contributo che avete apportato per questa importante attività grazie grazie a lei presidente ora l'intervento più atteso quello dell'amministratore delegato di RFI l'ingegnere Strisciuio che voglio ringraziare pubblicamente perché con lui abbiamo fatto tante cose la prima quando era in Merci Italia abbiamo iniziato a lavorare intorno all'interporto è un percorso quello iniziato con l'ingegnere Strisciuio che sta proseguendo e che noi siamo fiduciosi potrà portare ad ottimi risultati oggi tante sono le sfide di Nessere e la sua figura è una figura attenta insomma con cui c'è un'interlocuzione importante intorno allo sviluppo alle tante infrastrutture che stanno arrivando nella nostra regione dal punto di vista anche ferroviario e che non fa mancare mai la propria disponibilità per affrontare quei nodi che molto spesso rischiano di impantanarsi nella burocrazia e tenere ferme quelle che sono le grandi sfide attese da decenni dai territori questa di oggi è una di quelle un'opera di cui noi abbiamo sentito parlare per decenni fondamentale perché riqualifica un'intera area e che è un nodo cruciale l'ingresso al nord della città in una città portuale per chi non è di Ancona io voglio solo dirvi che ogni volta che arriva una nave la città si blocca in ingresso e in uscita con conseguenze dal punto di vista ambientale con conseguenze dal punto di vista della sicurezza del traffico della vivibilità e della sostenibilità tutto questo in pieno centro della città Capoluogo questa opera è un tassello che finalmente insieme all'ultimo miglio raddoppio a Stato dalle 16 la sistemazione del porto darà una nuova ambizione alla città Capoluogo quindi veramente grazie per quella che è quel grande lavoro che è stato compiuto ingegnere grazie a lei presidente grazie dell'invito e grazie dell'opportunità perché possiamo spiegare e raccontare un'esperienza importante vissuta qui in questo territorio è doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a questa intesa a partire ovviamente dall'assessore che ha coordinato in maniera molto attiva il tavolo di lavoro ed è per noi un'occasione importante perché si tratta di un contesto in cui riusciamo a mettere in campo delle prerogative importanti del nostro piano industriale di rete ferroviaria italiana e lo facciamo in una logica anche di grande coordinamento e grande sinergia con il territorio in primis mi piace segnalare che attraverso questo accordo facciamo un'evoluzione importante verso una progettazione integrata dei sistemi di infrastrutture quello portuale quindi quello marittimo e ovviamente quello ferroviario e si è detto ovviamente anche quello stradale quindi quando si riesce in un territorio a progettare e a realizzare di conseguenza infrastrutture e sistemi di infrastrutture in maniera integrata credo che di questo ne vada un giovamento non solo alle infrastrutture stesse che possono lavorare al meglio ma chiaramente anche al territorio e dunque a chi vive il territorio e chi ha esigenze di mobilità sia ovviamente le persone che le merci secondo aspetto è un intervento che produce lato ferrovia una serie di benefici tangibili quindi in primis mi piace sottolineare il fatto che attraverso questo investimento mettiamo in protezione l'infrastruttura ferroviaria e oggi viviamo su diversi territori in diversi contesti dei problemi di indisponibilità delle infrastrutture a seguito di eventi esogeni come di sesso idrogeologico o in generale eventi legati al cambiamento climatico che poi proibiscono non consentono la mobilità di merci e persone quindi poter mettere in sicurezza l'infrastruttura e adottare dei sistemi di monitoraggio evoluti per consentire di tenere sott'occhio la situazione evidentemente a garanzia della qualità dell'accesso ai servizi e su questo è molto importante molto importante perché andiamo anche a realizzare in sinergia ed è un momento di crescita per noi opere diciamo che non sono strettamente limitate all'asset ferroviario ma che poi proteggono l'infrastruttura stessa e ovviamente la sinergia con l'autorità di sistema portuale con le competenze che sono messe attorno a questo tavolo per effetto del protocollo è un valore aggiunto secondo aspetto cogliamo l'esigenza di migliorare la qualità del servizio ferroviario e dunque attraverso interventi diretti sulla rete ferroviaria sulla linea ferroviaria interveniamo anche consentendo una velocizzazione del tracciato quindi mettiamo insieme protezione dell'infrastruttura velocizzazione del tracciato e lo facciamo soprattutto in un contesto di grande sinergia con le esigenze del territorio da tutti i punti di vista dal punto di vista del progetto abbiamo realizzato già una serie di progettazioni legate a questi interventi molto spinte il complesso degli interventi di rete ferroviaria italiana vale circa 40 milioni di euro e di questo va dato merito alla regione che è riuscita attraverso una chiara focalizzazione di obiettivi ed esigenze a far convogliare le nostre risorse in questo territorio perché è chiaro che arrivare con esigenze chiare priorità e volontà progettuali definite pone chiaramente l'intervento diciamo in cima al ranking delle cose che abbiamo da fare e di questo va dato merito e credo che sia un punto di partenza anche per tutto quello che si dovrà fare in questo territorio secondo aspetto siamo come dicevo già molto spinti nelle fasi di progettazione di una serie di interventi l'obiettivo è di partire nell'anno prossimo a valle di tutto l'iter approvativo e autorizzativo con i cantieri e credo che sia ovviamente anche in questo caso un segno molto tangibile di concretezza ci tengo a ringraziare in chiusura anche le nostre strutture territoriali le mie strutture territoriali rappresentate dall'ingegner Convertino che sarà responsabile dei lavori quindi è chiaro che diciamo l'attenzione il presidio sul territorio costante e prerogativa di rete ferroviare italiane è l'ingegner Laghezzer responsabile della pianificazione quindi ringrazio anche loro perché poi direttamente oltre a aver preparato e lavorato direttamente su queste attività poi le metteranno in campo grazie a tutti grazie grazie ingegnere che ci dà anche una prospettiva temporale per noi importante importante perché insomma la convergenza di più cantieri e soprattutto l'impatto di questi cantieri nel territorio onconetano chiaramente ha una rilevanza il fatto di poter contare su tempi che tutti noi aspichiamo diciamo di prospettiva medio brevi significa che riusciremo a superare a consegnare questa opera nei prossimi anni al fine anche della progettazione che il sindaco e l'amministrazione comunale della città potranno fare rispetto a queste novità così impattanti ma io non vado oltre perché è stato detto veramente tanto procederei alla firma del protocollo e poi alla consegna alle nostre rispettive strutture di questo atto ora iniziamo l'ultima dobbiamo firmare sull'ultima pagina che anche l'ultima grazie grazie Grazie. Grazie. Questa mi sembra che sia completo. Ok. Questo è completo, credo. C'è qualcosa altro? Bene, possiamo fare una foto di gruppo e poi penso che possiamo sciogliere la seduta.